si sta incattivendo sempre più la faida che a ballando con le stelle vede protagoniste selvaggia lucarelli e simona itzo la giurata appungolato a più riprese l'attrice in diretta affermando che dovrebbe essere meno presente al fianco del marito ricky tognazzi che nel talent gareggia come concorrente in quanto lo oscura la discussione è degenerata nella scorsa puntata con la itzo che ha lasciato velatamente intendere che potrebbe decidere di querelare concetto ribadito alla vita in diretta in cui è stata ospite martedì 7 novembre passibile di querela ha detto la itzo sostenendo inoltre che la lucarelli abbia ricevuto querele da molte attrici fatto tutto da appurare e selvaggia come ha reagito naturalmente sfoderando gli artigli lucarelli passibile di querela ha disturbato tante attrici questo il titolo di un portale circa le dichiarazioni della itzo nel talk condotto da alberto matano tale titolo è stato ripostato da selvaggia nelle sue storie la giurata come ha commentato con una grassa risata insomma pare proprio che non tema lo spettro delle vie legali casomai la moglie di tognazzi voglia tentare tale strada e non è finita qui perché la giornalista giusto per far capire ulteriormente cosa pensa della itzo è andata a scoperchiare una pesante lite avuta dall'attrice con il figlio francesco venditti durante la loro partecipazione a pechino express nel 2012 la furiosa lite tra francesco venditti e la madre simona itzo all'epoca francesco ebbe un durissimo sfogo nei confronti della madre i due si trovavano in india e venditti desiderava dormire in una casa tipica del posto certo che sarebbe stata un'esperienza unica irripetibile la itzo invece spingeva per una sistemazione più confortevole e comoda alla fine venditti andò su tutte le furie accusando addirittura simona che l'italia era stata rovinata proprio da persone come lei di seguito il dialogo infuocato ripescato dalla lucarelli venditti voglio andare in una casa por asterisco a vacca se mi eliminano in questa tappa io non ho mai dormito in una casa indiana itzo capirai sai che esperienza qua non c'è l'aria condizionata si muore di caldo venditti cosa ci sei venuta a fare itzo comunque hai sbagliato a rifiutare l'ostello venditti furibondo no io rifiuto te che vuoi andare in un ostello è come quando andavi in barca con ricky arrivavate al porto e lui dormiva in barca e tu andavi in hotel punto itzo questi sono fatti miei io vado tutta la vita in albergo venditti sei proprio una radical chic che ha distrutto questo paese voi radical chic di mera asterisco a distruggete questo paese insomma selvaggia andando a riprendere quel filmato ha voluto smontare l'attrice e far comprendere ulteriormente ciò che pensa di lei e no non c'è proprio alcuna simpatia e nemmeno pare un briciolo di stima reciproca tra le due donen grazie 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 grazie